Benvenuti a Satarium, il principale fornitore di soluzioni GRC per il business. In questo video mostreremo le capacità del nostro gestore di revisione di base. Quando si tratta di SAP, alcune configurazioni di sistema, ruoli e utenti rappresentano rischi significativi. La gestione di questi elementi, come SAP standard, utenti, profili SAP standard sensibili e parametri di sistema, rientra nell'ambito dei controlli generali IT. Il gestore delle recensioni di base di Satarium permette alle aziende di monitorare elementi rispetto alle migliori pratiche e fornisce cruscotti e report che segnalano eventuali fallimenti. Gestisci i controlli generali dell'IT e riduci l'esposizione al rischio con il gestore di revisione di base di Satarium. Per info, contattaci a infoucterion.com